Ciao amici del liceo Cassini, anche io Enzo ci siamo... Conosci del liceo eh? Allora Cassini, siamo qua e adesso facciamo un'intervista a queste due splendide ragazze. Quanti anni avete ragazzi? 17, 17. Ciao amici del liceo Cassini, vi salutiamo. Perché sono minorenne? Ciao, grazie mille. Vuoi fare una domanda? Sì, una domanda. Allora, prima di tutto volevamo chiedervi se è utile crearsi un personaggio per ottenere fama, è meglio essere se stessi o le due cose possono combaciare? Per me essere se stessi. Perché se essere se stessi funziona, rimaniamo così. Poi ovviamente se devi inventarti qualcosa perché piace al pubblico, ce la inventiamo, qual è il problema? Tu cosa dici? Ha ragione lui. Dovamo aggiungere altro? No, niente, niente. No, anche perché io mi invento invece tutto, sono l'opposto di come faccio i video, quindi... Voi studiate perché... Sì, sì, studiamo. Vorremmo chiedervi, cosa pensate voi che siete nel mondo di YouTube già da tanto tempo, dei nuovi YouTuber giovani che stanno avendo il botto in questo momento? Che fanno bene, gli auguro il meglio di essere originari perché YouTube è la nuova televisione, comunque una volta c'erano le web, anzi le radio libere, adesso io ho 32 anni però comunque mio padre me lo racconta, oggi sono i canali YouTube che è la nuova forma di libertà, diciamo, un po' prima c'era la radio libera, poi oggi si chiama Radio DJ, Radio 105, no? No, non si chiama Rai perché la Rai è dello Stato, non c'è un canale YouTube dello Stato, no, c'è, forse c'è. Qual è? Penso il canale di Rai è della Rai. Ah c'è? Quindi non possono... No, comunque... I studenti dei nostri canali... Metteteci il like, si... Condividete... Basta, c'è un'altra domanda? Sì. E risposta secca, per chi ti fate? Inter. Io per chi ci paga il biglietto di volta in volta allo stadio. Onesto. Ultima domanda, nell'eterna rotta tra Nord e Sud, chi vince e perché? Ma la Vini vince chi ci scherza, cioè veramente stiamo nel 2018, ancora scherziamo con Nord e Sud, sono veramente delle... Ci sono dei pregi e difetti in tutte e due, dai. Sì, sì. Al Nord si può fare così, al Sud no, al Sud si può fare così, al Nord no, quindi... Viva il Sud. Sempre. Basta un punto. No, scherzi. Va bene, vi ringraziamo. Grazie. Mandarci le maggiorenne la prossima volta. Ce l'hai fatto. Grazie. Grazie.